Grande appuntamento internazionale per la Ippon Karate Lentini, che prenderà parte nel weekend alla prestigiosa Coppa del Mondo Giovanile di UMAG in Croazia, proposta dalla World Karate Federation. Saranno in gara 73 diverse nazioni e 4.000 atleti, tutti suddivisi ovviamente nelle varie specialità e categorie. I ragazzi del tecnico federale Marco Lentini saranno di scena nel comitè. In gara Paolo Propizio, Emma Colletti, Martina Quartararo, Andrea Danna, Irene Marturano, Mattia Rubanseri e Simona Di Gaetano, Di Sciacca, Ribera e Sambuca di Sicilia. La Youth League è uno degli eventi più importanti a livello giovanile per il settore federale delle arti marziali. Ippon Karate Lentini, che la scorsa settimana si è preparata disputando la Kame Mi Cup, con i passaggi di cintura e l'esibizione di arti marziali. E passiamo al podismo, tutto pronto domani a Menfi per la quinta prova del Grand Prix di corsa su strada della provincia di Grigento. La gara è valevole per la ventesima edizione delle strade del vino, ottavo trofeo Daniele Puccio. L'evento sportivo rientra ovviamente sotto l'egida della FIDAL. È valida per l'assegnazione dei titoli di campioni provinciali di corsa di categoria Senior Master Maschile e Femminile e la partenza è prevista alle ore 19 da Piazza Vittoria Emanuele. La gara di Menfi segue quella di Sciacca che si è svolta domenica scorsa e precede quella di Calamonaci che si terrà invece domenica prossima, sesta prova del Grand Prix provinciale e sesta edizione del trofeo podistico Città di Calamonaci, gara di poco più di 6 km con partenza da Piazza San Vincenzo Ferreri, sempre alle 19. Sia a Menfi sia a Calamonaci è prevista una corposa presenza di atleti di Sciacca, rappresentanti delle società Marathon Club, Tartaruga e Agato Cresciacca Terme.